Con Matteo Caroli commentiamo una vittoria che ci voleva assolutamente per avere più fiducia in questo 2016. L'avete fatto di squadra con tante assenze e con tante difficoltà? Esattamente, è stata una vittoria di squadra soprattutto perché venivamo da un periodo con alcune sconfitte consecutive e l'ultima vittoria è stata quella con crema, bellissima di squadra. E infatti oggi mi metto di squadra come con crema, è stata una buona partita, complessivo. Ascolta, dopo Padova e anche il nuovo infortunio a Valentini c'era stata anche un po' di sfiducia probabilmente. Mi sembra che abbiate dato una dimostrazione di saper reagire, di essere una squadra che gli attributi ce l'ha. Quando c'è bisogno abbiamo un carattere che viene fuori nelle difficoltà. Si è visto stasera, si è visto in altre situazioni. Speriamo di recuperare Valentina il più presto, però se giochiamo così saranno questo per il 2016 comunque. Allora, per te è una prestazione molto solida sia in difesa anche in attacco, quel canesso da tre punti nel finale ha dato tanto respiro e ha dato il via anche, credo, alla fuga giusta. Come stai e se ti senti sempre più coinvolto anche in questa squadra? Sto molto bene, fisicamente sto bene, col gruppo stiamo bene, siamo una squadra unita. Non voglio parlare della mia prestazione individuale, ma vorrei far notare che siamo stati in quattro giocatori su dieci a referto in doppia cifra, di cui Danny Facchino che ha sfruttato l'occasione. Io vorrei fare i complimenti alla squadra e non parlare di me stesso. Però insomma, sei soddisfatto di quello che hai fatto? Molto soddisfatto, speriamo di continuare così, sia personalmente che di squadra.